Era rimasto unicamente lui, il bisonte americano Arturo, nel parco di Cavriglia dopo la morte dell'orso Bruno e da adesso sarà trasferito allo zoo Safari di Ravenna. Il gruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale a Cavriglia dopo una riunione con gli attivisti dell'associazione Lial ha infatti chiesto al sindaco un incontro urgente sulla decisione del trasferimento di Arturo a Ravenna. Per Arturo l'associazione animalista aveva individuato una sistemazione in un centro di recupero specializzato in Baviera disponibile ad accogliere in vasti pascoli dove avrebbe potuto vivere libero. Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Cavriglia, Leonardo degli Innocenti. L'Elia nel corso di questi mesi ha avuto davvero molto tempo per proporre e organizzare il trasferimento del bisonte, sottolinea il sindaco degli Innocenti, tant'è che ha avanzato addirittura due differenti proposte, ma entrambe le strade non erano praticabili. Ci siamo dunque rivolti al nostro veterinario Mauro della Gatta che ha individuato la struttura più idonea per accogliere Arturo che si trova appunto a Ravenna. Solo quando Mauro della Gatta aveva ormai già impostato le pratiche con il parco di Ravenna, la Lial ha presentato a questa amministrazione una terza soluzione, ovvero la collocazione di Arturo in Germania. Per motivi di correttezza nei riguardi del parco di Ravenna non abbiamo potuto accogliere le richieste avanzate dalla Lial, ma siamo comunque disponibili ad un incontro in cui potremo illustrare alle ragioni della nostra scelta i rappresentanti del Movimento 5 Stelle.